Se a commettere il reato è un immigrato, per me è la pena, la sconta nel paese d'origine, non ha senso che noi continuiamo a tenerlo nelle galerie in Italia. Tre, quando esce di galera, se anche l'abbiamo tenuto in Italia o se l'ha scontata all'estero, in Italia non ci mette più piedi, perché se sei richiedente asilo, perdi qualsiasi possibilità di stare in Italia. Se hai ottenuto la cittadinanza italiana per qualche motivo, perché poi ora la vorranno rendere sempre più semplice, perdi la cittadinanza italiana se commetti un reato. Sono discorsi fondamentali questi, altrimenti non ne usciamo.